Quello che io faccio sempre, invito tutti i colleghi medici, tutti i cittadini, coloro che hanno un ruolo insomma specialmente a un pochino leggere, studiare, chiedere. Io non so fare le diagnosi bene come il dottor Ralli, è più bravo di me. Come manager tutti dicono che sono un manager che ha studiato, che ha letto la letteratura, che è aggiornato. Forse un confronto può aumentare e migliorare entrambi. Enrico Desideri, direttore generale della ASL Toscana del Sud, ci prova a stemperare le polemiche che sono nate in questi giorni dopo le dichiarazioni del dottor Luciano Ralli, consigliere comunale del PD ma soprattutto medico. Liste di attesa troppo lunghe, pronto soccorso intasati, dichiarazioni peraltro sottoscritte anche da un altro medico, Angelo Agnolucci. Il liste di attesa, insomma, ci sono ma sono le migliori della Toscana. Però ci sono? Quindi ci sono una risonanza magnetica a ottobre e tanta roba insomma. Però abbiamo un accesso con urgenza entro 72 ore, questo è un punto di forza nel nostro sistema, gli esami urgenti si trovano risposta in 72 ore. Il pronto soccorso che sono affollati, anche nell'ultimo fine settimana c'è stato un bel picco, quindi le case della salute sono un fallimento. Ma no, le case della salute hanno aumentato l'aspettativa di vita. Ecco, conosciamo i dati, questo è un dato che lo dà l'Agenzia Regionale della Sanità. Allora, ha calcolato che coloro che sono stati seguiti con il nostro modello del chronic care mode, la medicina d'iniziativa, attraverso le case della salute, ha un'aspettativa di vita di 4 anni più alta. L'ASL risponde convocando una vera e propria agora della salute, in realtà degli incontri pubblici previsti dalla legge regionale proprio con i cittadini. Il primo è convocato per il prossimo 19 di giugno alle 21 all'auditorio mio Pieraccini dell'ospedale San Donato. 19 sarò ben presente, darò queste risposte e soprattutto, più che dare risposte, perché neanche io, costituirò un percorso con loro, ma non solo con loro, ma con tutti coloro che saranno presenti, per trovare le migliori soluzioni. Dichiarare è semplice, poi confrontarsi sulle cose concrete, decidere come meglio fare, perché insomma è troppo facile prendere un foglio e mettere giù delle affermazioni.